E' bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Sono Gabo Gamer, oggi andiamo a fare un video su Fortnite La prima, il primo episodio del canale, diciamo così, il primo episodio Fortnite Allora, prima di iniziare il video faccio, scrivo il gioco, lo ammetto, quindi lo scrivete nei commenti Gabo, e così via, perché c'è solo un gioco da pochissimo tempo Questo fa due kill Quindi, cioè raga, già da questo si capisce che appena iniziate a giocare, iniziamo col gioco Allora, naturalmente dobbiamo aspettare per il matchmaking, perché ci ha detto poco Allora, raga, noi tecnicamente forse vedremo dei lag, non ne sono sicuro, però c'è un'altra possibilità che vedremo dei lag Ci sono abituata al controllo di Minecraft Musica su Fortnite Non so perché voglio andare là Naturalmente, certe volte cambio sempre un poco Perché c'è ninja sniper Ma questo è ninja vero o è ninja falso? È ninja vero o è ninja falso? Secondo me è un fake Però è sempre possibile che è reale Non si sa mai Perché? Cos'è questo? Ah Non mi rimettere da me Oh my god È esploso Poveretto Allora, munizioni Cose che molti prendono per scontato Ma io penso che siano Una delle cose più utili Se non La cosa più utile Su Fortnite Allora, io tra l'altro sento Un baule che sta davanti a me Ci sto a tambura Naturalmente Non è il meglio Però Ci sta Almeno Un loot Basilare Tipo per l'inizio del gioco Va bene Va bene Ok Mi ha fatto un poco troppo rumore Fare rumore su Fortnite Non è mai una buona idea Allora Io sto in safe Direto Giusto? Sì Quindi non ci dobbiamo preoccupare di quello Sono abituato a premere i controlli Perché ho sempre giocato a Minecraft Prima dopo la Infatti Sto registrando subito dopo Di aver registrato I video di Minecraft E questo è un problema Perché i comandi Sono diversi Vabbè Lasciamo perdere Facciamolo alla Gabbo Style Voi direte Che cosa intendi per la Gabbo Style? Nella maniera pezzotta Tanto per tenere un'arma in più Premo sempre contro Perfetto Cos'è questo? Non l'ho mai visto prima Raga Io già ve l'ho detto Gioco da pochissimo tempo Tempo a Fortnite Però diciamo che qualcosa ci capisco Dopo le prendo Quel materiale Vabbò Sapete che faccio? Un'altra cosa che mi piace su Fortnite Oh my god Cosa ho appena trovato? Cosa ho appena trovato? Un'arma epica? Allora Revolvera Ok Nulla di che Ok Ce la prendiamo giusto per due secondi E poi Quante granate su? Tengo 8000 granate Pum E ora possiamo riscambiare gli equipaggiamenti Un altro C'è spuglio Perché? Sento qualcosa Munizioni Cioè io questo qua Tempo fa Non lo consideravo niente Anche se dentro ci stanno munizioni Sempre Che sono sempre utili E c'è un botto di protection C'è un botto di protection Questa Andere so che è ben altro Però chiamarla protection Non ci sta Allora adesso dovranno andare In cerca di gente Allora mi sa che qua dobbiamo costruire un luogo Ah ok Dovevo fare prima così Ho fatto un grave errore Anche a costruire Sono una schiappa Prendiamo cestini E quello Cestini Sì Doppie pistole Prendiamo al posto di questo Cosa che ci sta sempre Gente Non chiedere perché Io me lo sento Qua ci sta qualcuno Che cosa avevo detto 5 secondi fa Però mi sa che sento qualcuno Che spara Tenevo un'arma Che faceva il mega zoom E' un'arma chi è che spara qua? ok mi sa che non era la migliore idea al posto del cespuglio non vedo questo perchè non so neanche cosa ci posso fare col cespuglio però vabbò raga comunque non so neanche se sta laggando perchè come ho detto sto ancora facendo esperimenti uh sento qualcosa ho sentito qualcuno mi fa sempre ridere quando sento quel suono prendiamo materiali e munizioni pistola al tamburo non ci serve teniamo armi più forti di quello già che sto sopravvivendo per tutto sto tempo è tanto cioè non sono mai durato così a lungo su fortnite ma è qua non ci può sta niente ma sto fuori dalla safe grazie microfono per avermi fatto soffrire per l'ennesima volta vogliamo ritornare in safe oh no qua mi arrivo trovo ninja davanti oh quasi c'è già sta da qualcuno dove sta raga non lo vedevo raga io pensavo che era nascosto non lo vedevo vabbè comunque già vi ho detto un gioco da pochissimo non sono un professionista ok perfetto giusto un secondo che come ben sapete io non mi fido assolutamente di nulla quindi io devo controllare se sto registrando perché se non sto registrando sclero è così comunque direi che per questa partita di fortnite pezzotta è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate like per farmi capire che magari in fortnite vi sta piacendo scrivetevi nei commenti se volete vedere i futuri episodi di fortnite scrivetevi anche dei consigli nei commenti perché posso sempre imparare più cose su fortnite grazie ai vostri consigli però detto questo ci vediamo al prossimo video bella bella